E siamo al quarto video su come difendersi se ti trovi in una brutta situazione. Lezione precedente, abbiamo parlato della distanza di sicurezza, dove tu sicuramente mi avrai obiettato ma come faccio io a tenere la distanza di sicurezza? Non ti preoccupare, lo vediamo in questo quarto video. E la tua arma più potente per mantenere la distanza di sicurezza e anche per valutare se hai preso un abbaglio oppure no, perché ci può stare, è l'utilizzo della difesa verbale e la gestione del dialogo. Facciamo un attimo però un passo indietro, prima che io ti spieghi come andare a sfruttare la difesa verbale e il dialogo per tenere la distanza e per verificare se la persona è realmente un potenziale aggressore oppure no. Il dialogo è uno strumento potentissimo nelle armi dell'aggressore. E la cosa positiva è però che è uno strumento potente anche nelle tue mani. Perché è uno strumento potentissimo? Perché con il dialogo l'aggressore può riuscire a metterti a tuo agio, riuscire a farti abbassare la soglia dell'attenzione, metterti paura, provocarti, sfidarti. Sono molte le cose che può fare con il dialogo. Puoi ingannarti, adoperare atteggiamenti disarmanti, insomma potrei farti un video soltanto sulle tecniche di dialogo, però avrebbe una pappardella abbastanza noiosa. Spesso però non viene considerato, ok? Quello che viene sempre fatto nei corsi di difesa personale è Lui ti prende da qui, ecco come liberarti, per esempio, ok? Oppure lui ti tira un pugno, ecco cosa fare. Succedono delle cose prima che si arrivi lì. Succedono delle cose che abbiamo iniziato a vedere nei video precedenti. E una di queste cose che succede prima, a meno che non venga fatto proprio un agguato in strada, quindi io passeggio e mi sbucano da una via, esatto, mi piombano da dietro, mi sbucano da una via e mi malmenano, è quella di sfruttare il dialogo per svariati motivi. Il primo può essere quello di valutare se la persona che ho davanti è una reda facile oppure no. Ok? Perché? Perché a seconda di come gestirà il dialogo, a seconda di come gestirà la presa delle distanze, e tutta una serie di cose, io aggressore capisco se chi ho di fronte è una persona facile da gestire oppure no. E l'aggressore in media vuole sempre trovare una persona facile da gestire perché la posta in gioco per lui è troppo alta. Un altro motivo può essere quello appunto di cercare di chiudere la distanza facendomi sentire tranquillo. Oppure quello di chiudere la distanza ma in maniera molto violenta mettendomi paura. Ok? Ora, in linea generale andare a parlare di dialogo, gestioni del dialogo e tecniche di gestione del dialogo ci vorrebbe tanto tempo, noi ci dedichiamo tanto lavoro in palestra. Ed è forse la cosa più difficile perché sai nel momento in cui sei lì e fai la parte tecnica siamo tutti contenti, colpiamo i colpitori, lavoriamo col compagno, ma nel momento in cui invece bisogna iniziare a lavorare col dialogo e quindi a parlare con i compagni, alzare la voce, imparare a gestire queste cose qua. Si crea a livello emozionale tutta una serie di trigger, chiamiamoli così, che possono metterci in difficoltà. Ok? Questo è uno dei motivi per cui secondo me buona parte delle persone non insegna la gestione del dialogo perché è difficile, ma è difficile proprio a livello emotivo. Personalmente è una delle cose che io soffro di più, però negli anni ho in... perché alla fine siamo dei bonaccioni, ma negli anni ho imparato a gestirla. In linea... Prendiamo delle regole molto semplici, ok? Dei dogmi che al momento non possono essere messi in discussione. Qualunque cosa un ipotetico aggressore mi dica è una menzogna, è una balla e io non devo ascoltarlo. Perché? Perché se io inizio ad ascoltare il suo dialogo, io entro nel suo discorso, entro nella sua tela d'aragno e rischio di rimanerne intrappolato. Se io invece metto una sorta di barriera fra me e lui e qualunque cosa mi dica io sono convinto che mi sta dicendo una balla, per cui non lo ascolto, è il rumore di sottofondo e continuo a ripetere sempre la stessa frase come fosse un discorotto, ho più possibilità di gestire il dialogo, ok? E quale sarà la mia frase da discorotto? Facilissimo. Stai lontano. Perché? Intanto perché in un dialogo non si sfida, non si provoca e non si insulta. Perché queste tre cose possono attivare quello che viene chiamato razionalizzazione, cioè il fatto che lui trovi una valida motivazione, anzi una valida giustificazione, non motivazione, per attuare la violenza nei miei confronti, ok? Quindi se io gli dico faccia di merda non ti avvicinare, potrebbe incazzarsi, ok? Potrebbe dargli un po' di fastidio. Oppure non ti avvicinare o ti spacco la faccia? Provaci. Esatto, va bene? A quel punto gli sto dando materiale su cui lavorare. Io non devo dargli materiale su cui lavorare. E per cui ripetere una frase che può essere stai lontano, noi usiamo questa, poi ce ne sono altre, se vuoi ragionaci tu e pensa tu a una frase che può esserti utile, beh, è molto semplice. Mi facilita, mi sgrava, diciamo, di un lavoro. Altra cosa è perché stai lontano è una richiesta di mantenimento della distanza di sicurezza. E come ci siamo detti la scorsa volta, non esiste che una persona a cui io non do il permesso chiuda questa distanza. Perché? Perché il pericolo è molto alto e quindi non gli devo dare questa possibilità. Nel momento in cui io gli chiedo di stare lontano e lui continua ad avvicinarsi, è allora qua la puzza di bruciato, come dicevamo nel video precedente, è altissima. Cioè c'è veramente l'arrosto è andato a fuoco, ok? Perché non ci sta. Io ho avuto situazioni di allievi e allieve che si sono trovati in un contesto di questo tipo, hanno chiesto stai lontano, hanno fatto il loro passettino indietro e la persona a sua volta si è allontanata. Perché? Perché non era una persona che voleva attuare una violenza nei loro confronti, ok? Voleva davvero solo l'informazione, si era realmente persa o eccetera, eccetera. Nel momento in cui però io gli dico stai lontano e quello o quella non solo continua, ma magari cerca anche di avvicinarsi, perché? Perché una persona che non conosco, a cui io sto chiedendo di stare lontano, si sente in diritto di poter non rispettare il mio no? No, perché il punto è qua, è questo, la mancanza di rispetto di un limite che io sto dando, di cui è un mio diritto, perché è un mio diritto chiedere a qualcuno di stare lontano, di non avvicinarsi. Non gli sto chiedendo niente di trascendentale, non gli sto chiedendo dei soldi, non lo sto minacciando, non lo sto provocando, gli sto chiedendo stai lontano, posso anche dirglielo per favore, stai lontano per favore, per favore stai lontano. La difesa verbale, e poi ti facciamo vedere come si fa, va fatta in quella che appunto noi chiamiamo posizione di sicurezza, cioè dalla mia posizione neutra io faccio un passo indietro e uno solo e metto le mani con i palmi rivolti verso la persona con cui sto parlando. Perché? Perché da qui io posso lavorare, posso colpire, posso proteggermi, posso fare quello che voglio, però la mia posizione non è aggressiva. Se io mi piazzassi davanti al mio patetico aggressore in guardia e gli dicessi stai lontano? E' vero che con le parole gli sto dicendo di stare lontano, ma con il corpo no, ok? Quindi può essere vista come una sfida. Se io invece gli dico stai lontano per favore, non ti avvicinare, stai lontano? E' un po' più, dai che la risolviamo, non ti preoccupare, guarda scusami, eccetera, eccetera. Va bene? Quindi il giochino che magari puoi provare a fare, anche se è difficile farlo da solo ed è difficile farlo con persone che si conoscono, però non sia mai, magari hai qualche diatriba, qualche faida con un familiare, potrebbe essere la volta buona per sfogare un po' di odio, è quella di partire da posizione neutra intanto, perché in strada presumibilmente siamo in posizione neutra, ok? Non andiamo in giro come dei psicopatici tenendo la guardia, quindi parto da posizione neutra. Quando l'ipotetico aggressore mi si avvicina, io faccio un passo e uno solo indietro. Perché indietro? Perché se lo faccio in avanti, uno chiudo di più la distanza, quindi sono io che mi avvicino a lui. Due può essere visto come un atteggiamento di sfida, quindi faccio un passo e uno solo indietro e metto le mani con i palmi aperti verso di lui. Quindi, poi nel momento in cui andrò a fare il lavoro fisico, le mani si chiudono, però per adesso no, per adesso no, perché per adesso è un... Guarda, per favore, stai lontano, ok? E gli chiedo di stare, anzi non gli chiedo, gli intimo, non è una richiesta, di stare lontano, ok? Quindi stai lontano, va bene? Il giochino è questo. Primo step, se lo vuoi provare a casa, prendi un parente, un animale domestico, non lo so, chi vuoi, un bambolotto, te lo tiri con il cavo, lui si avvicina, stai lontano, ok? E riprendo la distanza e lui di nuovo. Una volta che ci avete preso un po' di confidenza, che ci hai preso un po' di confidenza, arriva la parte pesante, cioè la parte in cui lui parla. E tu devi continuare, stai lontano, stai lontano, stai lontano, ok? Adesso vi facciamo vedere varie versioni, giusto perché almeno tu possa avere un'idea di come adoperarla, di come usare questa strategia. Lo stai lontano va dosato in base alla situazione. Quindi io posso essere molto gentile, stai lontano, per favore, stai lontano, non ti avvicinare, oppure, come vedremo poi più avanti, in una versione un po' più arrogante, ok? E poi ti spiego anche il perché è importante la versione arrogante. Quindi vediamo prima la versione gentile. Io sono qua, posizione neutra, lui si avvicina e inizia a parlarmi. Stai lontano, stai lontano, stai lontano, non ti avvicinare, stai lontano. Stai lontano, stai lontano, stai lontano, stai lontano, stai lontano, stai lontano. No, non mi muovo da qui, tranquillo, ho solo bisogno di un'informazione. Che informazione? Vorrei sapere questo. Guarda, mi spiace, non ho l'orologio. Perdonami, vado via. Ok, l'abbiamo un po' tirata, ok? Giusto anche per caricaturarla un pochino, però lui tiene la distanza. Allora io gli posso parlare, ma se lui, nel momento in cui facciamo la stessa scenetta, ok? Io gli chiedo di stare lontano, lui continua con il discorso di chiedermi l'ora, ma mi si avvicina, quindi. Stai lontano? Stai lontano, non ti avvicinare, stai lontano, stai lontano, non ti avvicinare. Te la dico, ma stai lontano, stammi lontano. Ok, nel momento in cui mi si avvicina, si avvicina, si avvicina, e c'è qualcosa che non va. Se mi vuole parlare, se ha bisogno di sapere soltanto l'ora, perché deve avvicinarsi? Qua, gatta cicova, ok? Quindi questo può essere uno strumento. Di solito, noi come segnale convenzionale, se per caso vuoi provare questo esercizio a casa, chiediamo a chi fa l'aggressore di dare le spalle, di girarsi, ok? In maniera tale che così io so che l'esercizio è finito. Perché? Perché Andrea non è che deve stare per forza di cose qua davanti a me, lui può giostrarsi lo spazio come gli pare, piace, ok? Ovvio è che se lui diventa particolarmente insistente, o se lui alza la voce, o se lui ha un modo di fare diverso, anch'io alzerò la voce, ok? Ti facciamo vedere come. Stesso esercizio, l'esercizio finisce quando Andrea mi dà le spalle, ok? Può giostrarsi l'aria come vuole. Stai lontano, stai lontano, stai lontano, stai lontano. Stai lontano, stai lontano, stai lontano. Ok, esercizio è finito. Poi, ultima, giusto per spaccarti un pochino le casse del monitor, ultima possibilità è che lui invece abbia un atteggiamento molto violento nei miei confronti, ok? Tipo il classico tizio da discoteca, che minchia guardi, e via dicendo, e alza la voce. Allora a quel punto anch'io dovrò alzare la voce ancora di più, ok? Ultima scenetta e poi ti spiego ancora due cose prima della fine del video. Stai lontano, stai lontano, stai lontano, stai mi lontano, lontano, stai lontano, stai lontano, stai lontano. stai lontano ok e poi si può alzare ancora di più più lui alzerà la voce e più il diciamo che il gioco deve essere sempre che la mia voce superi la sua io devo sentire me non devo sentire lui ok questo è molto importante va bene lui può avere un atteggiamento ancora più esasperato ancora più lento io devo sempre tenere su la voce che vantaggio ho facendo questo lavoro qui uno attiro l'attenzione un aggressore non vuole che io attiri l'attenzione due scarico un po' di adrenalina non sembra ma aiuta ok aiuta a gestire un po' di più la situazione tre gli sto dimostrando che tengo la mia posizione e non arretro mantengo il mio territorio diciamo non ho paura anche se dentro sono come un lindor sull'unotto della macchina il 15 di agosto e mi sto sciogliendo ok io fuori devo far devo essere un bravo attore e far vedere invece che ho due palle cubiche cosa numero tre cartina torna sole se la persona non vuole realmente farmi del male starà lontana e mi chiede quello che mi deve chiedere e noi parliamo a distanza problemi non ce ne sono i problemi ci sono quando io gli chiedo di stare a distanza e lui avvicina allora torniamo al discorso della scorsa lezione dello scorso video distanza di sicurezza io gli sto dicendo di star lontano lui continua ad avvicinarsi stai lontano lui continua ad avvicinarsi e allora a quel punto dovrei partire io per primo ok poi ci sono tutta una serie di cose che andrebbero valutate però a livello di teoria questo è ok bene adesso tutto quello che devi fare è trovare un parente che ti sta sulle balle e andare a lavorarci assieme anche sì sì mandi l'indirizzo e Andrea viene non ci sono problemi spero che questo video ti sia utile so che sono degli argomenti un po' strani ed è altamente probabile che non seguirei più i prossimi video perché direi questo è matto ma ti suggerisco di non farlo ti suggerisco di guardare tutto il videocorso fino alla fine così avrai il quadro completo e ti sottolineo ancora una volta che questi primi blocchi sono quelli più importanti in assoluto e sono quelli che a livello statistico è più probabile che tu vada ad usare ovvio vanno allenati ok noi in Urban Budo io ho tirato fuori un sacco di metodologie li faccio arrivare molte volte ai ragazzi ma ciò nonostante sono comunque le parti più complicate da lavorare perché mettono in gioco alcune dinamiche che non è sempre facile andare a a toccare va bene ok allora buona pratica mi raccomando grida come fossi un'aquila e noi ci vediamo domani per la prossima video lezione ciao ciao